L'aeroporto di Genova compie 50 anni. Era il 12 ottobre del 1962, quando venne inaugurato lo Scalo Cittadino. L'occasione fu una grande festa per la città, che vide anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Antonio Segni, del Ministro Paolo Emilio Taviani e di tutte le maggiori autorità civili, militari e religiose. Per celebrare i suoi primi 50 anni di vita, Cristoforo Colombo ha realizzato un'esposizione fotografica che ricostituisce la storia dello Scalo, che verrà installata nei prossimi giorni al piano partenze e ha stampato un numero speciale del magazine gratuito aeroportuale già in distribuzione nello Scalo. L'idea di un aeroporto nella zona di Sestri Ponente era nata negli anni 50, con un progetto che prevedeva la creazione di una pista completamente strappata al mare, grazie a centinaia di cassoni di cemento armato e all'impegno di migliaia di tonnellate di rocce e terra. Si trattava di un'opera ambiziosa e modernissima per l'epoca, che richiese ingenti investimenti e anni di lavoro. I lavori iniziarono nel 1954 e durarono otto anni. L'aeroporto divenne operativo il primo novembre del 1962. Per oltre vent'anni l'aerostazione rimase collocata nella vecchia sede, un hangar posizionato nel piazzale nord. Negli anni successivi alla costruzione dell'aeroporto il traffico passeggeri era costantemente cresciuto, passando da 151.000 del 1963 ai 573.000 del 1972. Presto apparve evidente la necessità di una nuova struttura. Il progetto definitivo venne approvato nel 1980 e complicato il 10 maggio del 1986. Il mondo dell'aviazione è in continua evoluzione, per questo il Cristoforo Colombo pensa al futuro e ha già avviato un nuovo piano di sviluppo. Tre progetti, quello dell'ampliamento e dell'ammodernamento dell'aerostazione, accompagnato da un collegamento diretto con la ferrovia. Obiettivo? Migliorare i servizi e velocizzare i flussi dei passeggeri in arrivo e in partenza. Regalare ai viaggiatori un'esperienza di piacere in uno scalo rinnovato e moderno. L'aeroporto di Gemma festeggia 50 anni ma continua a guardare al futuro.